ciao ragazze oddio preso un attimo allora come vi ho detto nel primo video che però è ovviamente era abbastanza lunghetto lo tutto tagliare iniziamo con il secondo video sempre partendo da questa posizione qui che come vi dicevo io ho utilizzato odio sampigliata ma certo perché questa è quella più lunga di catenina come potete vedere ho utilizzato la parte finale del bracciale questa parte aggiungendoci una colorazione che un rosso ciliegia e che non è proprio ispiratissima al natale però non ci stava neanche male ma che presto andrò a cambiare nel momento in cui troverò delle cose che possono andarci meglio comunque vi faccio vedere al volo sono la mela come potete vedere poi ho anche questo questo continuerà credo a far parte del mio natale perché è l'angelo guardate che bello questo è bellissimo è tutto smaltato in maniera oleografica eccolo qui vado un pochino di corsa ma questo è molto molto bello o di nuovo una murrina che anziché essere rossa è un rosso ciliegia vedete che bella della disney come potete vedere non mi ricordo di quale di quale principessa sia sinceramente non lo ricordo oddio ho avuto un flash e e all'interno queste macchiette vedete lattiginose bianche tipo bollicine sono molto molto bella di qua invece abbiamo la pera no la fragola scusate la pera è un altro colore la fragola la fragolina rossa poi abbiamo questa che l'ho messa qui perché c'era il rosso ma sinceramente non è molto natalizia comunque sono due cuori con le corone sopra molto molto carino mi piace quindi ce lo lascio sono smaltati i cuori ovviamente ma è un rosso un pochino più simile a questo che simile a questo però questo andrà ovviamente cambiato qui abbiamo la stessa identica murrina e abbiamo lui l'albero di natale io ogni volta che vedo questo albero penso a sonia ciao sonietta la mia quad e niente questo albero è bellissimo questo dovrebbe avere secondo me un posto di onore infatti gaia credo che già gaia io adesso non so se si chiama gaia lei o si chiama gea credo gaia però e questo albero qui mi piace tantissimo perché ha tutte queste queste piccole zirconie cubiche che sono colorate bianche rosse vedete e verdi e poi un bitono cioè la parte in alto come potete vedere la stellina è in oro 14 carati in un altro video mi sembra che ho detto oro 18 carati per quanto riguarda un bracciale bitono mi sono confusa ragazzi è 14 carati pandora utilizza per quanto riguarda l'oro utilizzava insomma per quanto riguarda l'oro il 14 carati perché è un oro meno lo diceva anche nelle sue nei suoi chiarimenti diciamo è un oro meno acceso mentre in effetti lo shine come abbiamo potuto vedere è una placatura ma è una placatura di oro 18 carati l'ho detta l'ho detta e infatti è un oro molto più acceso mentre quello rose l'oro rose è un 14 carati come placatura detto a questa disquisizione andiamo avanti io vi devo sempre fare quel allora praticamente avevo scaricato delle cose di pandora dove spiegava perfettamente per filo per segno nero su bianco tutta la lavorazione dello shine della placatura eccetera eccetera non riesco a trovare i fogli o li ristampo e ve li faccio vedere perché è meglio vederli proprio dal vivo che così insomma uno si può rendere conto meglio che a parole basta perché la parola poi due secondi dopo uno se la dimentica giustamente invece così vederla proprio è meglio allora eccola qui questo è l'alberello meraviglioso bellissimo e questa è la catenina di sicurezza e di qua invece nulla più quindi di questo bracciale come avete potuto capire io fino a qui lo vorrei tenere integro vorrei lasciarmi il l'alberello di natale e l'angioletto questo qua e tutto il resto lo vorrei togliere da qui in poi ecco scusate non avevo ecco da qui in poi lo lascio e da qui in poi tolgo tutto quanto però devo aspettare che facciano delle altre cose perché sennò non mi piace spezzarlo ora comunque vi ho fatto vedere nell'altro video questo vi ho fatto vedere questo li possiamo anche spostare perché in questo secondo video in questo ah no vi voglio far vedere un'altra cosa in questo secondo video allora spesso mi dite ma di cose rosse io non ne ho tante come posso fare che cosa ci posso mettere io ho un bracciale che ha dei toni rossi diciamo oltretutto è un bracciale che ho utilizzato proprio per natale perché il suo come posso dire il suo la sua chiusura era quella proprio natalizia vedete la ricordate questa chiusura meravigliosa questa è una delle più belle è bellissima questo però è un bengol rigido come potete vedere che io porto meglio sinceramente però visto che non a tutti può piacere guardate quanto è bella è stupenda e qui ci ho messo diciamo la maggior parte come potete vedere di charm e punti luce rossi ve li faccio vedere al loro così se vi viene una voglia di rosso per mettere nel bracciale magari natalizio sapete un pochino dove cercare o cosa cercare vi dico velocemente vabbè queste sono le clip quelle con le ciliegine a cuore vedete molto carine io ce l'ho messa perché mi stava molto bene il rosso secondo me qui io ci metterò molto probabilmente quando lo tolgo anche lui questo qua questo credo che lo metterò di qua perché secondo me ci sta proprio bene come colorazione e qui vedete c'è il cuore che è rosso questo tutto in pavè abbiamo quest'altro tipo di cuore che è un doppio vedete ma da teoria dovrei essere io e doter che è la figlia femmina che in teoria dovrebbe essere via ma secondo me a volte al contrario vabbè questo è un cuore che avevano fatto anche per il maschietto che era sull'azzurro l'interno e non sul rosso io avendoci la femminuccia lo presi sul rosso e di quelli doppi mi piace tantissimo e l'ho voluti mettere speculari qua di qua abbiamo il mio primo primissimo in assoluto primissimo charm pandora quello che vi ho detto nell'altro video che mi hanno regalato hanno regalato lui a diversi anni e guardate cos'è io questo qui lo adoro è un cuore con il cuore rosso dentro meraviglioso lo adoro secondo me come specularità rispetto a questo cuore tutto rosso non ci sta per niente male che ne pensate scrivetemelo qui sotto nei commenti se invece non vi piace altri due cuori rossi ovviamente differenti abbiamo questo che riprende molto bene il rosso è uno smalto ovviamente però vedete dentro c'è la scrittina amo te vedete si vede bene si eccolo qui e anche di qua molto molto bello questo mi è piaciuto tantissimo bello questo lo fanno ancora molto fecchiato eh occhio ma infatti fammi vedere la funzionatura un attimo eccola qua è bellissimo mi piace tantissimo e l'altro è questo questo l'hanno fatto anche in rosa l'hanno fatto un po' però è bello e questo invece ce l'ha qui vedete questo pure molto bello molto molto old sono questi che sono delle sfere con gli smalti un rosso scuro diciamo che è lo stesso rosso per capirci del babbo natale che vi ho fatto vedere nel primo video eccolo qui vedete è lo stesso rosso scuro rispetto a questo rosso qui vedete guardate è lo stesso rosso scuro e ogni tanto qualche sfumatura cambia questi difficilissimi da trovare sono li avevano fatti anche in verde li hanno fatti anche in viola se non sbaglio vabbè comunque io ne ho due perché sono riuscita fortunatamente a trovarne due nuovi e sono bellissimi stanno proprio bene poi un altro gioiello molto molto richiesto soprattutto durante il periodo natalizio è questo questo vabbè io non mi soffermo moltissimo perché lo si conosce e straconosce però vi faccio vedere la funzionatura perché perché sì perché c'è paura che poi se no si fecchia da morire eccola qui tutti i cuoricini come al solito è lo stesso classico che abbiamo visto in tutti in tutte le colorazioni mi piace molto e il colore è molto intenso è un pochino più un ciliegia che un rosso ma è talmente intenso e talmente bello che va bene va benissimo chi se ne frega e anche questo ovviamente è speculare ci sta benissimo come vedete quindi non toglie nulla non toglie nulla di qua e di là finiti i charm questi qua luccicosi abbiamo un cuoricino con lo stemmino di pandora e smalto rosso uguale a quelli tipo mamma e figlia e praticamente di qua non c'è nulla anche questo è abbastanza old ecco qui abbiamo il marchetto eccolo dove è Ale ecco qua e qui c'è il marchettino pandora vedete lo smalto lo smalto è rimasto non è caduto è bellino perché come un po' gli anelli quelle pietre natali o comunque le cose che faceva prima pandora ha tutto questo contorno di borchettine stanno proprio bene proprio bello guarda mi piace tantissimo invece di qua ho una cosa un pochino più recente anzi molto più recente questa è la sua funzionatura intanto preso da dietro ve lo faccio vedere che è questo ovviamente una pietra sintetica anche lei però è un bellissimo rosso e secondo me speculare a quel cuoricino ci sta proprio bene poi passiamo al pezzo forte per a mio avviso che sono queste cioè le i charm gli open questi dovrebbero essere open che sono con le ciliegine così vedete le ciliegia 3 che è una delle caratteristiche porta fortuna non so se vi è capitato mai di mangiare le ciliegie trovare quel grappoletto che ne ha tre anziché due e si dice che è un po' un porta fortuna no poi ce ne sta pure da 4 da 5 a seconda di come le raccolgono ovviamente però solitamente si trovano due le ciliegie no tant'è che anche qua sopra vedete fatta due però questa era una sorta un po' di porta fortuna e come vedete sono il sopra tutto smaltato con questo smalto meraviglioso rosso e le foglioline hanno queste zirconie cubiche ne sono tante per ogni ciarmo una di qua e una di qua questo è un po' più difficile da trovare però lo si trova anche lui mi raccomando guardate molto bene quando lo trovate la punzonatura perché anche questo siccome è abbastanza ricercato e anche molto copiato e soprattutto guardate che gli smalti quindi fate fare proprio un giro guardare gli smalti siano tutti integri perché hanno visti tanti che li vendevano che magari ovviamente essendo un po' più sporgente lo smalto si può scheggiare ma ci sta cioè io se lo trovassi anche scheggiato in qualche modo cercherei di acquistarlo certo con un prezzo ovviamente non a quel punto non perfetto cioè non da ciarmi perfetto però è talmente bello che lo si può tranquillamente avere poi abbiamo questi altri due anch'essi molto però questi anche si trovano di questo colore molto intenso che è la stessa colorazione di lui però questi hanno molti anni di differenza sono vecchissimi chissà se di qua la punzonatura usa dall'altra parte eccola qua eccola qua e anche queste sono meravigliose io in mezzo ci ho messo lei questa è credo che sia unica non penso di averne un'altra e comunque talmente bella che mi piace tantissimo averle al centro guardate cos'è questa è meravigliosa una murrina stupenda è difficile da imitare come come bellezza perché con tutte queste scaglie argento è stupenda è bellissima e anche la sfaccettatura la rendono ancora più più aggressiva più accattivante mi piace tantissimo bella veramente bella insomma fatto sta questo bracciale io quando lo indosso e lo indosso soprattutto appunto nei periodi natalizi perché magari metto questo e questo insieme aspetta che accorcio un po magari metto questi due insieme così vedete oppure lascio giù lui ci metto questo uno snake vedete per il natale sta benissimo cioè è veramente è molto molto bello capita anche che lo metto durante l'anno questo qui perché avendoci il rosso se magari ho qualcosa di rosso da voler far spiccare un bracciale rosso così scusate ci sta proprio bene e quindi a volte lo metto anche nei negli altri periodi dell'anno perché non ha nessun richiamo a parte insomma la parte della chiusura per il resto non ha nessun richiamo natalizio d'accordo e il bello è anche questo poter utilizzare magari un bracciale passepartout da poterci abbinare e portare poi eventualmente tutto l'anno anche se io questi qua ogni tanto li mettevo pure a gennaio mi sentissimo mi fregava mi piacevano troppo e comunque questo vi ho fatto vedere era l'alternativa dei rossi ora vi voglio far vedere un pochino il troll beats mamma mia già siamo a 15 ragazzi questo troll beats perché praticamente gaia già gaia già gaia si chiama si mi ha detto mai qualcosa di natalizio da vedere insomma io ho detto pandora o troll beats perché bene o male un po questi no e qui abbiamo questo anche lo utilizzo periodo natalizio quindi natalizio proprio vero e proprio a parte questa colorazione rossa molto molto forte come potete vedere smorzata ecco il limite dal bianco e dalla labradorite dal grigio della labradorite della pirite questa lavorazione già un po riporta al natale diciamo come come impatto però poi abbiamo le farfalle che non ci dice niente col natale il fiore del vento non ci dice niente anch'esso oh mamma mia ah no con il natale e e quindi dice ma perché natalizio perché perché queste qui presentano io lo indosso al natale presentano queste meravigliose murrine qui che non sono troll beats allora vediamo quante di voi le hanno riconosciute perché l'avete straviste anche sui gruppi guardatele cioè sono molto natalizie si vedono hanno i fiocchi di neve su uno sfondo rosso cioè di chi sono queste murrine meravigliose e di chi saranno mai di aldo giannone e sono le meraviglie di aldo giannone sono leggermente leggermente più grandi dei troll beats ma proprio poco poco questi sono prisma quindi non guardate la dimensione loro per trovare questi due prisma rossi vabbè lasciamo stare e aspetta che questo lo sposto un pochetto ecco e sono bellissimi sono meravigliose queste proprio cioè io impazzisco per queste murrine qui sono fatte benissimo guardatele troppo belle e questo già mi rappresenterebbe un natale se non che poi da questa parte abbiamo il pupazzo di neve quello ritirato vecchissimo introvabile introvabile proprio questo è stupendo infatti l'ho preso al volo quando l'ho trovato in un negozio che aveva le cose da museo ancora vabbè chi chi conosce trovi sa che di che cosa parlo e è bellissimo e quindi ce l'ho messo subito vabbè labradoriti fiore del vento farfalle diamanti ancora pirite labradorite e poi abbiamo lui un altro elemento natalizio sempre troll beats che è il pupazzo di neve con lady disgelo vedete è bellissimo tanto che non riesco a farvelo vedere bene che ballano io però questo qui non riesco a farvelo vedere bene bene ecco è troppo bello vedi come l'abbraccia questo è uno di quelli più belli molto romantico questo è anche molto natalizio e quindi ho deciso di indossare soprattutto in insomma periodo natalizio questo bracciale qui che ho dei troll beats ha una cosa vi voglio dire vedete fiori del vento io qualche giorno fa video un video non mi ricordo di chi sinceramente al limite poi lo riguardo vedi un video di una ragazza che aveva acquistato questo questa meraviglia che è una meraviglia di design e non soltanto di argento nudo e crudo pesato sulla bilancina l'ha acquistato fake ovviamente non c'è niente a che fare no ma si vede si comprende si capisce ma rubare così le idee il design di un artista che ha fatto per troll beats questo spettacolo e gli artisti sanno di che cosa parlo perché non c'è soltanto l'artista dell'argento l'artista del vetro questi sono gioielli ma gli artisti sono anche sono anche quelli che dipingono gli artisti sono anche quelli che creano abiti gli artisti sono quelli che lavorano in legno cioè ce ne sono tanti quindi rubare il design l'idea e vantarlo in un modo così ombrobrioso come un elemento simil troll beats o simil insomma reale originale per me sinceramente è veramente umiliare chi ci sta dietro a queste cose è vero che questo costa tanto adesso pure aumentato ragazze mie lasciamo stare questo è vero che costa tanto per carità però prenderlo su quelle piattaforme scrause che sviliscono proprio queste cose veramente è come avvallare il lavoro che c'è dietro ad un oggetto c'è il made in italy o anche il non so il fatto artigianalmente in questo caso non è made in italy però il fatto artigianalmente cioè veramente umiliante io che quando vedo queste cose rabbrividisco vorrei veramente passare oltre perché sinceramente è brutto 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 è vero che non c'è scritto da nessuna parte che quell'oggetto lì fecchiato al massimo è troll beats ma siccome è stato fatto con la stessa tipologia con il ricamo sotto qui mi sembra che c'è delle cose puntinate orrende scene però insomma dai cioè non si può così perché in questo modo non si fa altro che alimentare quel sottobosco di persone che si approfittano della genialità degli artisti per lucrarci sopra e è un messaggio che arriva bruttissimo cioè è proprio il messaggio che noi siamo noi siamo qui su questo canale che potrebbe essere visto in tutto il mondo e stiamo dando delle informazioni no comunque sia quindi dare un'informazione per dire anche bello vedete cioè anch'io il sim il fiore del vento poi va a vedere che è osceno comunque è bruttissimo come messaggio che arriva è vero che esistono queste piattaforme come no ma esistono perché c'è gente che ci compra allora se voi comprate una cosa che costa poco che però non è la copia di niente di nessuno per carità ci acquisterei pure io cioè voglio dire che ne so se comprate le mollette con l'ello kitty stampato sopra e l'ello kitty non ha mai fatto una molletta del genere la molletta quelle da panni prendite queste per far capire queste mollette no se comprate una molletta del genere con l'ello kitty stampato sopra e non l'ha mai fatta l'ello kitty per carità quella è prende l'immagine dell'ello kitty quindi comunque è un copiare ma non è spudorato così cioè non si può mettere sui video le spudoratezze di sto genere ragazzi non si può fare perché veramente è vogliamo svilire la creatività dell'artista e chi ama troll beats chi veramente ama troll beats sa e conviene con me che non sto dicendo una cavolata tutti quelli che hanno troll beats che la pensano diversamente secondo me è perché ce l'hanno perché hanno tutti i troll beats e non perché veramente gli piace troll beats questo è il mio pensiero scusatemi se mi permetto non dovrei perché ognuno può i propri gusti per carità però io le copie così spudorate non le reggo l'avete capito anche da quello che avevo scritto su facebook e risposta mi sembra una ragazza non mi ricordo neanche il nome comunque risposta a lei che veramente non si può sponsorizzare i falsi perché di questo che si tratta i falsi non si può cioè a parte che contro la legge anche se non hanno il timbro o il marchiato a parte che contro la legge ma al di là di quello è proprio un messaggio che noi inviamo sbagliato cioè sì se ce l'abbiamo ce lo vogliamo tenere per noi ci facciamo il giorno ci andiamo in giro per carità chi ci dice niente ma il messaggio che inviamo attraverso youtube attraverso facebook attraverso comunque canali social è un messaggio di prenditi la copia che tanto è uguale cioè non è un messaggio corretto da inviare capito non è proprio un messaggio corretto questo piccolo sfogo scusatemelo perdonatemi però per me è dovuto perché perché ci tengo insomma io amo questi artisti e quindi ci tengo commentate anche voi qui sotto se la pensate nello stesso modo o se la pensate anche contrariamente a me perché magari possiamo magari mi posso sbagliare cioè posso essere io in torto e cercare anche di capire anche attraverso il vostro pensiero se dov'è il mio torto e magari ritornare sui passi perché no tutto è possibile quando si ha l'umiltà di ragionamento tutto è possibile comunque torniamo a noi questo è il troll biz che vi ho fatto vedere un pochino natalizio appena appena accennato perché poi tutto il resto no però questa parte qui è quel natalizio che ho allora già gaia poi qui stiamo già 25 quindi questo è un altro video di quelle lunghissimi vado di corsa un'altra cosa che mi ricorda tantissimo il natale o comunque l'inverno periodo invernale a parte il bracciale è lui è questo qui non mi soffermo tanto penso che tu questo l'abbia già visto rivisto io ce l'ho uno su questo bracciale e c'ho il pendente che utilizzo come collana poi ho gli anelli ne ho presi due perché solitamente io metto sul mignolo poi mi piaceva tanto l'ho voluto anche qui e questo volentieri li porto insieme e mi siamo molto guardate il gatto anzi questa è la piccolina che mi ha fatto questi sfregi abbiamo fatto la lotta chi ha i gatti lo sa che vuol dire fare la lotta quanto mi piace mi dà proprio sollievo e poi da quei mozzichetti che non stringono questi vabbè i graffietti perché so io che però i mozzichetti che i mozzichetti d'amore ecco qua questi sono gli anelli guardatevi bene perché anche questi sono ultra fecchiati ragazzi madonna io sempre posti fake mi faranno paladina contro i fake oddio speriamo di no se no ce la farò tutti contro io ho visto guardate gli orecchini tanto vi faccio vedere vi dico una cosa ho visto un particolare io l'altro giorno si erano iscritte delle persone quando ho fatto quel quando ho scritto quel post quel commento insomma per il discorso fake tre di quelle persone ma proprio sai che vuol dire dopo neanche cinque minuti si sono cancellate si vede quindi evidentemente così funziona così ma a me non me ne frega niente cioè per me si possono cancellare tutte quelle chiamano i fake tutte tutte non ce le voglio a me piace le persone che anche se comprano una cosa che non è originale perché attenzione ci può stare però che non sia proprio spudoratamente fake ragazze no cioè non originale io avete visto la mia bigiotteria ma quanta roba c'ho di bigiotteria un botto e ne vado fiera però non è i falsi non sono i falsi ragazze cioè guardate questi sono bellissimi questi al lobo sono un amore belli 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 e comunque stavo dicendo c'è anche questo natalizio che ho preso ultimamente anzi che mi ha preso ultimamente antonella preziosi ciao anto carinissima ragazza di roma anche lei e eccola qui molto molto carino io di questo qui ancora non l'ho montato sul bracciale io dovrei montarlo su questo bracciale qua insieme aspetta voi vi faccio vedere insieme a delle murrine che però non ancora montato perché sto aspettando di ricevere di acquistare l'altro comunque ve lo faccio vedere questo è uno e poi lo volevo montare sempre per un discorso azzurro natalizio con queste murrine dite che cosa ne pensate perché comunque devo fare un pochino di aspetta ci metto anche l'altro ci devo fare un pochino di smaltimento delle cose che ho in più che non riesco a farli trovare una collocazione ideale e quindi o ricrea un altro bracciale invernale natalizio su questi toni oppure non so come poter fare comunque allora queste sono le murrine che vorrei utilizzare per questo bracciale diciamo un po' che sto creando ora per per questo inverno per il prossimo inverno come vedete a questo che è quello nuovo poi a loro queste qui che stanno benissimo c'è ci sono anche bianche ci sono queste sfaccettate anche queste su un bracciale natalizio possono andar bene infatti già gaia te lo faccio vedere così almeno poi puoi vedere se ci se c'è qualcosa che ci vuoi che puoi trovare da indossarci e questo non è natalizio natalizio questo sì però ci ci può andare insomma perché no e in più ce lo ci sono loro aspetta che lo prendo no ecco faccio molto velocemente ci sono queste clip questo è il bracciale a cinque clip vi ricordate io ne ho due di questi però su questo qui ho pensato di metterci appunto queste due costellazioni bellissimo queste sono meravigliose e poi metterci queste altre tre qui vedete una due tre sono queste clip molto natalizie la quarta mi è rimasta fuori e vabbè questa quarta probabilmente la utilizzerò come fermo come ho fatto tante altre volte speculare non so forse proprio a questa pallina qui lo vediamo perché comunque vedete la rappresenta anche abbastanza bene in maniera speculare detto ciò ho anche questo che ha la ecco questa sì questa è secondo me molto 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 natalizia comunque invernale e l'ho presa con questo bracciale qui anzi questa me l'ha regalata angela genea dire il vero ciao tesoro e questo invece è quello che vi ho fatto vedere già in in altri video quelli natalizi non mi soffermo più di tanto però è anch'esso molto molto natalizio quindi se lo vuoi sul tema sul tema sul colore azzurro blu questo ci può andare come tipologia altrimenti come ti ho fatto vedere prima ci sono queste questa ancora da pulire queste sono diverse di natura sono proprio così l'ho voluta anche io proprio diverse poi ci sono loro e questa è una ragazza mi sembra che era teresa ha detto ma queste sembrano le onde del mare ragione io diciamo che l'ho voluta un po' interpretare come diciamo sulla pista da sci i segni che lasciano gli sci quando scendono però in effetti è proprio molto molto tirata per i capelli questa questa cosa ovunque vabbè non fa nulla e questo è il pendente io detto ciò penso di avervi fatto vedere tutto per quanto riguarda il natale spero di sì vediamo se qui c'è qualcosa sì c'è un'altra cosa che vi voglio far vedere che è questa allora guarda già gaia c'è questo qui questo vedi questo elemento qui che non c'entra niente vedi la scrittina non è proprio natalizia però questo qui è uscito a natale perché c'era uscito il bracciale vi ricordate il bracciale quello schegge di ghiaccio una cosa del genere la collana gli orecchini ecco questo genere è sempre molto natalizio quindi con la zirconia cubica trasparente ovviamente e però questo si può utilizzare anche per collocarlo su un bracciale natalizio detto ciò io vi ringrazio a tutte quante ragazze scusate lo sfogo ma di fronte a queste cose chi mi conosce lo sa molto bene io non mi riesco a tenere perché sono proprio gnucca però sono così amo le cose belle anche di pochi euro non mi interessa il costo anzi come vi ho detto guardate le mie bigiotterie capite come sono quindi pochissimi euro però purché siano belle purché siano vere e originali io i fake di sto coso cioè veramente io tirerei appresso detto ciò vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video spero di averti accontentata almeno in parte gaiagea e insomma ti vedo volentieri anch'io ciao tesoro